cose in casa guardate qua tramite i suoi magneti mi rimangono praticamente attaccati in questo modo io riesco a fare i miei lavori e non so se avete presente magari sei sulla scala scaletta scendi perché dimenticato un cacciavite sali a prendere quell'altra cosa una vite un chiodo in questo modo avete tutti i principali attrezzi che vi servono a portata di mano anzi no di brazzo in pratica voi fate i vostri lavori